Siamo in casa CKC, due equipaggi a settembre perché a quattro pare a marzo le cose sono andate bene con un certo porto assoluto e loro sono tra equipaggi più lontani anche se arrivano né dall'est né dal nord ma arrivano dall'altra parte dell'autografia, precisamente dalla Sicilia, dal circuito di Ispica ma ecco qua ci sono due, tutti i ragazzi amici della regione, della Trinacria e ci dicevi il nostro Presidente? Il Presidente? Sì, Francesco Casco Ci dicevi che questo è un esperimento, sta crescendo il movimento infatti abbiamo chiamato il Team CKC, per cercare di allargare la nostra rosa piloni che purtroppo ancora è piccola come top driver e per far sì che le prossime avventure di ESO e anche quelli di ESO siano come top driver Beh, un esperimento che mi sembra sia andato bene perché la posizione è comunque a cento, nella me, di parte media alta per la Trinacria e la gara difficile Molto difficile, con previsione di pioggia, prove libere su pioggia, quali impi che è un po' asciutto, un po' umido e poi invece fortunatamente siamo stati graziati dal diluvio che era previsto e fortunatamente è uscito anche il sole questa domenica mattina una gara faticosa, bella, unisce tutti noi questa esperienza e fa sì che la ricorderemo anche gli anni a venire e gruppo di amici, appassionati, uniti, apertura, passione e divertimento E' una squadra, oltre che è binata un circuito, giovane, diciamo che siamo al secondo anno a così alto livello Sia la squadra, sia l'associazione, sia il circuito, due anni, che ci siamo proiettati in questa avventura tre come circuito, due come squadra, bellissimo circuito, il dirigente di Ragusa che sono di lungo in vista outdoor, dove riusciamo a fare numeri e seguersi abbastanza importanti in Italia Benissimo, quindi, il futuro Rosen si confronta... Piano piano ci arriviamo CKC, ma si viene neanche tanto piano, vedendo la classifica, sono tante squadre francesi che vi state mettendo le spalle, quindi... Come esperimento? Come esperimento? Sì Sicuramente, se ci fossimo presentati come Top Team, non sarebbe andato bene con questa professione però, ci va bene, abbiamo sperimentato un po' di piloti, li abbiamo messi alla prova molti sono, per la prima volta, fuori dalla festa di casa quindi abbiamo cercato di cadere anche il comportamento di questi piloti che si, comunque, rimeggiano nella classifica del nostro circuito per vedere anche l'adattamento a un circuito nuovo e per vedere se sono in grado e capace di affrontare avventure un po' più Bene, quindi, un piano di crescita per il CKC, in bocca al lupo questo Cremi, cremi Ciao, grazie Alla prossima